Buongiorno, oggi è il 30 novembre, Sant'Andrea, il Vangelo ci presenta la chiamata dei primi quattro discepoli apostoli da parte di Gesù sul lago di Galilea. Ci sono tanti elementi, il primo che mi piacerebbe sottolineare è questo. Siamo sul lago che contemporaneamente è un luogo dove si trova il cibo, dove c'è il lavoro, ma anche un luogo dove l'uomo può rischiare la vita tramite le tempeste e tante altre cose che ci possono essere. Quindi è un luogo ambiguo su questa ambiguità, ecco il Signore chiama e rende queste persone da pescatore a pescatore di uomini. Quindi è una trasformazione che è in grande continuità ma anche in grande discontinuità e che ci porta a vedere come queste persone sono invitate a preoccuparsi della realtà più importante che Dio sta a cuore, cioè l'uomo. E l'altra questione appunto è questa celerità della risposta e questo fatto che i primi apostoli sono due coppie di fratelli, segno che anche questo probabilmente deve costruire così il fondamento assoluto anche della vocazione, diventare fratelli sempre di più. E poi anche una radicalità sempre maggiore, i primi lasciano semplicemente le reti, i secondi lasciano anche oltre al lavoro anche il padre. Chissà se questo vuol dire qualche cosa ma in ogni caso chiediamo che il Signore ci dia questa elasticità di vita per rispondere alla sua presenza, alla sua chiamata. Buona giornata a tutti, fatti bravi!